Ministro Speranza è il rituale, ma la prego di prendere posto in prima fila qui davanti. Prego, grazie. Lo faccio io perché ho notato l'ingresso del Ministro. Ettore, a te la parola, grazie. Grazie a voi per l'invito, grazie Carlo, grazie a te, grazie ad Andrea per questa occasione. Anch'io sono particolarmente contento di essere qui con voi oggi e di portare un breve saluto. Guardando questa platea e questo tavolo di presidenza vedo tanti amici, tanti colleghi, tante persone con cui abbiamo condiviso tante cose. Guardando indietro vedo veramente la capacità che abbiamo avuto di farle insieme. Penso al lavoro parlamentare, penso anche alle campagne elettorali che abbiamo fatto insieme negli ultimi anni, anche solo negli ultimi anni. Leggevo prima lo slogan che accompagna questo tavolo di presidenza, la politica non è rumore e azione. Penso che sia uno slogan centrato, poi peraltro diciamo che la comunicazione a Carlo piace particolarmente e non solo a lui tra di voi. E ci aggiungerei un'altra osservazione, che la politica è faticosa e lo sappiamo tutti quanti noi, se vogliamo fare politica, se non vogliamo fare solo slogan. E la fatica che dobbiamo mettere in campo in questa fase del nostro Paese, della nostra storia, è una fatica più impegnativa di altre volte. Perché riguarda un Paese che comunque è molto segnato. Noi siamo qui tutti essersi ritrovati in un congresso con la possibilità di farlo di presenza e un grande sforzo organizzativo, una grande capacità di voler andare avanti, di guardare con fiducia al futuro, che va apprezzata e sottolineata. Ma è anche una grande fatica, lo sappiamo tutti quanti noi. Chi fa politica sa quanto è stato faticoso ricominciare, riportare insieme le persone a incontrarsi. E pensate così è il Paese. Noi abbiamo ancora una difficoltà gigantesca girando per la nostra Italia. Vediamo quante persone sono ancora preoccupate, impaurite. E penso che in questa fase così delicata, dove non c'è solo la paura del Covid, con le conseguenze che abbiamo tutti ricordato, con l'impegno straordinario dei nostri medici, del personale sanitario, con la fatica di tutti coloro che si sono battuti, anche delle cassiere del supermercato, che lavoravano i primi giorni del Covid senza sapere cos'era il Covid e tenendo i nostri supermercati aperti. Ecco, io penso che in questo noi abbiamo un contesto in cui la crisi economica non è passata. Perché è vero che l'Italia sta ripartendo, è vero che i nostri numeri sono migliori di tutti quelli degli altri Paesi, ma nelle tasche degli italiani non è arrivato a tutti questo. E questa difficoltà di percezione, la crisi della pandemia che c'è ancora, impone a noi scelte ancora più faticose, ancora più impegnative. E penso che questa nostra discussione, che voi farete in queste ore, sarà una discussione importante anche per noi. Guardate, io ho difficoltà a trovare punti su cui non siamo d'accordo, ve lo dico con grande franchezza. Io guardo le cose che dite, ascolto le cose, ho difficoltà a trovarle punti che non sono d'accordo. Penso che faremo delle battaglie che faremo molto insieme. Penso ai temi della giustizia, penso ai temi della giustizia e ai referendum che abbiamo davanti. Io penso che noi saremo insieme a fare quelle battaglie, anche referendarie. Penso all'idea che abbiamo sulle riforme, su un Paese più moderno, sull'efficientare questo Paese, le nostre istituzioni. Penso che la vediamo alla stessa maniera. Poi possiamo trovare le differenze, certo, ma le troviamo anche all'interno, tra di voi le trovate, tra di noi le troviamo. Il punto è che la politica è quella fatica non di trovare le cose che ci dividono, ma la fatica della politica è trovare le cose che ci accomunano e di mettere insieme le cose che ci accomunano. Io ho molto apprezzato, peraltro, adesso facciamo parte della stessa famiglia europea. Non c'è anche lì, sul piano europeo, sul piano internazionale, se vogliamo andare a guardare oltre i nostri confini. Peraltro il dibattito in questo Paese sulla politica estera è stato sempre un po' soffocato dalle questioni interne. Non guardiamo mai a sufficienza oltre a quello che accade, non solo, diciamo, sui confini dell'Europa orientale, ma anche in Pacifico, tutte cose che ci riguardano tantissimo. Ecco, io non trovo differenze. E allora penso che con la serietà e la capacità che i partiti devono mettere in campo, guardando allo scopo profondo per cui nasce un partito, e cioè che vale per noi, ma sono certo che vale anche per voi, che non è l'autolegittimazione di una classe dirigente. Un partito nasce non perché bisogna essere solo comunità politica, ma perché abbiamo un'idea di Paese da sviluppare, abbiamo un mandato a cui rispondere, che è quello di dare risposte ai nostri connazionali che si aspettano da noi, che facciamo quello che serve, in questo Paese serve tantissimo per fare un passo avanti, per guardare con più fiducia al futuro. Abbiamo una situazione straordinaria, in cui abbiamo il miglior Presidente del Consiglio che il nostro Paese possa avere, un uomo di una straordinaria autorevolezza internazionale, che rende il nostro Paese più autorevole in giro per il mondo, che ha dato un regalo, abbiamo fatto anche un regalo all'Europa, perché abbiamo dato un leader europeo che può parlare con voce forte, quando parla Mario Draghi parla anche l'Europa, non parla solo l'Italia. Ecco, allora usiamo questo tempo, usiamo questo tempo in cui abbiamo costruito le condizioni anche per la stabilità delle nostre istituzioni, la rielezione del Presidente Mattarella sta anche in questo, abbiamo una stabilità delle nostre istituzioni, in una fase, e chiudo, in cui non nascondiamoci che c'è una difficoltà profonda. Cioè, leggiamo che anche le divisioni che avvengono in Parlamento, chi di noi ci lavora lo sa, ma abbiamo un governo che va da, e lo saluto da Roberto Speranza a Matteo Salvini, è chiaro che ci sono delle divisioni, sarebbe difficile che non ci fossero, e dico che questa capacità che serve per tenere insieme questo governo in questa situazione difficile, è la stessa che stiamo mettendo in campo per tenere il Paese insieme in una situazione difficile. Chiudo su questo, provate a pensare cosa sarebbe stato quest'anno che abbiamo attraversato Green Pass, obbligo vaccinale, chiusure dopo un anno di fatica, quello che avevamo già passato, se al governo fossimo stati, diciamo, con una maggioranza di metà Parlamento, e se la metà del Parlamento fosse stata in piazza a protestare insieme a quelli che protestavano, provate a pensare cosa sarebbe stato. Quindi il governo Draghi non è solo un governo guidato da un uomo di grande capacità, ma è anche un governo autorevole che ha saputo costruire un pezzo importante di unità nazionale in un momento drammatico per il nostro Paese. Di questo dobbiamo essere orgogliosi, dobbiamo essere capaci di tutelare, guardando con fiducia al nostro lavoro e guardando anche con fiducia al rapporto tra i nostri partiti, che per quanto mi riguarda non può che vedere una strada comune e un obiettivo comune. Grazie. Grazie.